Vediamo, vediamo! Se osservi attentamente questa cassetta capirai chi ci abita! Oh, mi sa qualcuno che canta! Ehi sì! Ci abita Potter e Flap! Lei e il suo cucciolo amano, amano, amano cantare! E fanno duetti in perfetta armonia! Che belli che sono! Ciao bambini! Benvenuti nel mondo fantastico di Barbie! Ciao bambini! Sì, questo è il mio fantastico mondo! Oggi il mio ospite è Incentimas, che si chiama Sancia Squirrel e il suo animaletto Stamper! Ciao bambini! Io sono Sancia e lui è Stamper! Ciao! Io sono Stamper e sto cercando l'animo giro! Sì! E vi presento il libro di Incentimas! È un Incentiland! Vi presentiamo il libro di Incentiland! Allora, l'altra volta siamo arrivati fino a Potter e Flap che stavano cantando! Andiamo avanti bambini! Ci portiamo tutti voi nel magico mondo di Incentiland! La foresta incantata! Allora, passiamo avanti! Che bella casetta! È facile capire che qui abitano... Ci sono le orecchie come i volpi! Scopriamo chi c'è! Tadam! Qui abita? Felicity e Flick! È una casetta molto accoliente, piena di libri e di meravigliose gemme! E c'è anche una mappa di Incentiland! Che carini! Oh, è meravigliosa la casa con orecchie! Ti piace? Mi piace tantissimo! Anch'io vorrei una casina con orecchie! Allora, questa è la mia amica! Lei è una volpetta! Lei adora la foresta! Oh, sì! È meravigliosa la casina! Vorrei conoscerla, la volpetta! Oh, certo! Te la faccio conoscere, la volpina! Adesso la chiamo! Volpina! Ciao, chi mi ha chiamato? Ciao, Felicity! Ti ho chiamato io! Ti volevo a conoscere la mia amica Barbie! Tu si chiama Margherita, presentatevi! Oh, piacere! Io mi chiamo Margherita e lui è mio fidanzato, Daniel! Io mi chiamo Daniel! Ed ero molto curioso come hai fatto a mettere quelle orecchie a quella casa! Ah, certo! Oh, lo vedo! Questa è casa mia! Sono io! Sì, io e Flick! Wow, che bellissimo libro! Oh, sì! Quelle orecchie sono delle finestre! Mi hanno aiutato l'animaletti della foresta! Oh, io penso che dobbiamo andare avanti con il libro! È bellissimo! Concegliamo, bambini, a guardare cosa c'è dentro questo libro! Apriamo! Tadam! Uh! Guarda, allora! Queste sembrano le corna di un cervo! Chissà che ci abita! C'è una piscina con un cervo! Ma lo so! Vediamo, vediamo se ho indovinato! E sì, quanti fiori colorati e profumati! Qui è Batata, Anessa e Sprint! Loro gioco preferito è rincorrersi nella foresta per vedere chi è più veloce! Ma che carini che sono! Che bello! La casa fatta a forma con i corni! Ma che bellissima casa! Queste case sono state costruite dai animaletti che ci aiutavano a costruirle! Sì, sì! È vero! Tutti quanti animaletti della foresta! Vediamo cosa c'è dietro a questa pagina! Chi vuole un gelato super buonissimo! Guarda, è la pagina di un pinguino! Oh, vediamo e scopriamo chi c'è! Wow! In Incendilance si gustano i coni di gelato e di neve straordinari! È super bello questo gelataio! Sì, sono io che sto mangiando il gelato ieri! Era buonissimo quel cone con gelato! Wow! Veramente molto bello questo libro! Dice tutto momento a momento! Sì, è molto bello! Per questo ti ho chiamato qui per fartelo vedere e conoscere i miei amici! Ragazze, vivete in un mondo meraviglioso! Quasi quasi torno dietro con voi! Sì, ci costruiamo una casa e vivremo lì nella foresta! Dai, dai! Figliamolo! Voglio vedere se ci sono io! Bambini, vediamo come c'è di qua! Wow! Ruscello Chiancherone è un ruscello magico! Ma dove sta? Ma sta qui, bambini! Wow! Lui sa tutto! Parla con tutte le creature della foresta incantata e mostra ciò che loro hanno bisogno di vedere! Veramente molto bello! Quindi posso fargli qualsiasi domanda? Oh, ma è vero! Anch'io sono curiosa di farle qualsiasi domanda! Allora, sì sì! Vi porto un giorno a farle delle domande! Sì! Continuiamo a guardare il libro che è l'ultima pagina! Ci saremo di sicuro tutte noi! In questa ultima speriamo che ci siamo tutte! È vero, Barbie? Sì! Sono curiosa! Però vorrei tantissimo parlare con il vostro fiume magico! Questo libro è molto interessante! Voglio vedere l'ultima pagina anch'io! È l'ultima pagina, bambini! Oh sì! E viva Incentiland! È un posto meraviglioso dove la magia della natura e la magia dell'amicizia sono in perfetta armonia! Ci sono tutte e loro cinque! Con tutti e cinque animaletti! È finito il nostro bellissimo libro! Bambini lo potete acquistare! Dove c'è un mondo di Incentilands! Questo è un bellissimo libro, giusto? Questo era Incentiland! Era un mondo incantato dove gli animali aiutano le persone! È vero, è stata bellissima l'esperienza nel mondo incantato! Ragazze, siete tutte meravigliosi! E la prossima volta voglio conoscervi tutte, tutte, tutte! Oh, anch'io sono curiosa di vedere tutte le ragazze in tutte le cose! Sì! Allora nel prossimo episodio facciamo venire tutte le ragazze! D'accordo? Feliciti! D'accordissimo! Bambini, mettete mi piace, iscrivetevi ai commenti! Ciao ciao!